Onigia flebile speranza si è infranta poco dopo le due del pomeriggio, quando un corpo senza vita è stato avvistato dall'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco di Venezia, arenato su un isolotto a Ciano del Montello, nel mezzo del fiume Piave. Il tempo di raggiungerlo, e non ci sono dubbi, è il corpo di Alex Marangon, il 25enne scomparso tra sabato e domenica notte dopo aver partecipato a una festa privata all'abbazia di Santa Bona a Vidora, 4 chilometri a Monte rispetto al luogo di ritrovamento. Alle 15 in prefettura Treviso era stato convocato un tavolo di coordinamento delle ricerche, poi annullato, serviva per fare il punto dopo tre giorni di mobilitazione in questa parte di Montello, dove non mancano luoghi impervi e la corrente del fiume è forte, a tratti violenta. Dopo l'avvistamento da parte del personale di elicottero è intervenuto anche il nucleo dei fluviali che ha portato il cadavere prima nel cimitero di Ciano e subito dopo all'obitorio di Montebelluna, fondamentale anche il supporto della protezione civile e del soccorso alpino, tutti coordinati dai carabinieri che fin dall'inizio si sono occupati delle indagini. Il giovane si era allontanato da un gruppetto di una ventina di persone intorno alle tre del mattino e di lui si erano perse subito le tracce. Alex aveva lasciato in auto il portafogli e le mentre il suo smartphone è stato rinvenuto nella camera da letto in cui avrebbe dovuto trascorrere la notte. Sul posto in questi giorni amici e familiari la stessa mamma aveva lanciato un appello ai nostri microfoni, ora attorno a quella famiglia si stringe l'intera comunità di Marconna. Speravamo in un'altra notizia, eravamo tutti là in aggiornamento con le ricerche e ci aspettavamo tutt'altro e con questo ovviamente siamo vicini alla famiglia, famiglia che da adesso in poi vuole stare tranquilla e viversi questo momento di sofferenza. Sul corpo del giovane è stata effettuata una prima ispezione cadaverica e non ci sarebbero segni evidenti di violenza, quindi al momento le ipotesi restano principalmente due, il gesto estremo o la caduta accidentale compatibile con alcune contusioni riscontrate e il successivo annegamento. Servirà probabilmente un'autopsia per stabilirlo con certezza. Ogni decisione ora è in capo alla procura di Treviso da cui dipenderà anche il nulla osta per i funerali. Abbiamo già definito il lutto cittadino perché Alex è un ragazzo giovane, poi in questi giorni c'era tutta la comunità marconese che era in ansia ed è dovuto insomma alla famiglia assolutamente.